cultura che si sta prendendo spazio. Cioè, anziché progredire, noi rischiamo di regredire su questo terreno. Regredire, fra l'altro, in un terreno dove siamo già molto deboli nel riconoscimento dei diritti individuali, dei diritti civili. E appunto, in ultimo, le istituzioni pubbliche, alcune istituzioni pubbliche importanti come le regioni, che hanno uno strumento, anche appunto, come indicato da lei, anche costituzionale, appunto, di poter organizzare la formazione, che tentano di impedire, però, l'applicazione di programmi e comunque di linee guida statali, volte una corretta e moderna educazione sessuale per i nostri alunni e studenti. Ecco, il nostro auspicio è che l'attenzione che lei, Vice Ministro, ha voluto porre e che il Governo, nella risposta, ha voluto porre si traduca in atti concreti, un po' più, anche più forti e più decisi. Il Paese ne ha bisogno, non ha bisogno di regredire su questo versante. Abbiamo bisogno di fare un passo tutti insieme in avanti, ma di farlo davvero. Grazie. Grazie, onorevole Bordo. Passiamo all'interpellanza urgente numero 2.218 dei deputati Scotto ed altri, concernente iniziative di competenza per salvaguardare i livelli occupazionali dei consorsi di imprese che gestiscono i livelli, i servizi di pulizia delle scuole. Chiedo al deputato Bordo se intende illustrare l'interpellanza di Quecco Firmatario. Prego, onorevole, lei la parola. Grazie, Presidente. Dal 29 dicembre 2015 i consorsi di imprese che gestiscono i servizi di pulizia, di decoro delle scuole, a fronte delle incertezze di quanto interverrà dopo il 31 marzo 2016, hanno attivato le procedure di licenziamento collettivo e sensi a legge 223 del 1991 per 6.124 lavoratori in tutto il Paese. I consorsi di imprese Manital e Ciclat, che operano nei lotti che interessa il territorio della Campania e le province di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento, hanno formalizzato una esuberanza di 3.180 lavoratori ex LSU ed appalti storici. Il 28 marzo 2014...